Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di CSGOverwatch Il mio nome è sempre qui, tuono 8 e quest'oggi siamo tutti qui riuniti per guardare un'altra prova E che appare, possibilmente, un altro cheater Ma prima, volevo farvi sapere che ieri mi sono trato molto bene a fare lo streaming dove abbiamo finito Titanfall 2 E penso oggi di andare in streaming, se riesco a mettere a posto il canale Twitch Penso di andare in streaming, tipo sempre verso le 5, 5 e mezza Magari con No Man's Sky, stavo pensando Perché volevo farlo in streaming da una cifra, però il gioco era un po' una merda Adesso l'hanno updateato un sacco, ci sono un sacco di cose che non so E quindi mi sembrava magari carino andare ad esplorarlo assieme Quindi, bando alle ciance, ciance alle bande Vi lascio comunque il link in descrizione del canale di Twitch Così potete andare a dargli un'occhiata Andiamo ad acchiappare un altro cheater Ok ragazzi, ci siamo Siamo su Mirage Il nostro spettato è T, sta vincendo 4-0 E sta facendo 8 kill e 2 morti 206 di damage per round, 50% di HS Vediamo cosa decide di fare Lasciano tutti verso B Giusta la flè? No, è quella che rimbalza a cazzo No, era giusta, era giusta Andata a rimbalzare proprio lì fuori Un po' po' flefciosa Ci sta Cerca... Non so se... Ha visto? No, ok L'aveva visto, però l'ha visto con la coda dell'occhio, suppongo Cerca di entrare in jungle Con la bomba oltretutto Quindi hanno fatto una specie di giro del mondo Sono entrati in B, sono andati verso A In jungle Hanno un player in connector Però è totalmente libera E il spettato trova Lily Scattino strano sulla testa lì Però potrebbe essere lui bravo Niente di incredibile Mentre io so che avevo alzato il gain Perché Perché ieri ho fatto la live di Ice Games Italia Spesso e volentieri Non so perché non mi si sente Quindi Scusate Cioè era un po' più alto del previsto del microfono In questi primi minuti di video Però Dovrebbe essere normale adesso Quindi Sospettato Sfara un po' ad alpha Lo tagga per 20 praticamente È bianco totale Prova un paio di shot in l'angolo Tanto era già mirato Vortex Trova Husky Non è il sospettato di ucciderlo E 3 contro 4 Questa intratina non ha avuto l'azione sperata Soprattutto Madonna spara veramente strano Tipo solo one taps One taps One taps Non è proprio il modo in cui vorreste sparare Onestamente Perché Oltre a fare male I colpi Di qualsiasi arma Rallentano anche gli avversari Ok Quindi La cosa intelligente da fare lì Attenzione lì La cosa intelligente da fare lì E non è sparare Pam 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 Ma sparare seriamente Ma sparare seriamente in Con un po' di recoil Controll Devi stare attento Daisy è riuscito a bruciare Albatross 2 contro 1 Attenzione la bomba è pronta Daisy prende anche woodpecker Quindi 6 a 0 Signori Insomma Se sparate Così Pam 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 Non funziona così bene A meno che non miriate perfettamente la testa Sospettato non è che mira proprio la testa Mira quasi al corpo Quindi Andrebbe meglio fare Dei Fare dei piccoli spray Di 5-6 colpi Cioè vedete Sanno sparate così Entra poco un cazzo Anche perché vedete Che i colpi comunque Subiscono il rinculo Quindi Non è proprio Il massimo Modo di sparare Anche se Vi giuro che spara In una maniera strana Cioè è proprio strano Il modo in cui Spara Perché non è il modo In cui si spara Prova un paio di spray Nella smoke Non trova nessuno Vortex invece Trova husky Ci sono anche alcuni Movimenti Che possono sembrare Strani Ai più neofiti Soprattutto i neofiti Della mappa Ma Tipo anche Alcuni mg O dmg Potremmo dire Ma questo sta mirando Esattamente dove C'è il tizio In realtà Quello che sta facendo È soltanto Avere un buon Crosser placement Nei posti giusti Perché la gente Se vedete adesso Che non c'è nessuno Sta mirando comunque Nei posti giusti Se vedete Ha il crosser Piazzato abbastanza bene Ecco Quello era un buon Uh Cerca di però Quello era un buono spray Riuscito a trovare Uno dei player Adesso facendo 13-3 8-0 I'm calling smurf Questa cosa qua Ma in realtà Il modo in cui spara È veramente strano Quindi non credo neanche Sia uno smurf Perché uno smurf Non spara così Se sparate così Non è arrivata A livelli altissimi Ok Perché sì Il one shot Il one tap Della cappa È molto preciso Ma Non è Abbastanza Secondo me Per essere Per essere Utilizzabile Oddio Adesso ha sparato In mezzo alle gambe Gli ha sparato Gli ha sparato Realmente In mezzo alle gambe Ha preso Anche quello Dietro Dietro Oddio Non mi viene Non mi viene Double Double stack Double boxes Doppie casse Quello Comunque Avete capito Non mi veniva più Il nome di quella Di quella posizione Dove di solito Mi ci metto sempre Non è double È triple Dietro triple C'ho dei problemi La mattina Io quando registro Ste cose Quindi 9-0 Per i team Il sospettato Oggettivamente Sta giocando Benino Si sta facendo 16-3 Però gli avversari Non sono forti Non sono per niente Capaci Prova una smoke A cazzo di cane Si chiama questa È esattamente Anche quella È un'altra smoke A cazzo di cane Per window Che lascia il gap Sulla destra Daisy intanto Con L'auto sniper Nessuno Nessuno li ha visti Nessuno li ha visti Comunque Anche il sospettato È rimasto lì Un attimo Interdetto Ho detto Come ho fatto A non ucciderli Tutti e due Perché ti sei mosso Prima di sparare Ci do un sacco Anche a me Spesso quando magari Sparo in una smoke Città e città Vedo tipo il colpo Che va in alto A sinistra No Perché Siccome sto sparando In una smoke Sto facendo tutto Molto più veloce E quindi Mi muovo Prima di sparare O dura Mentre Esattamente mentre Sto premendo per sparare Quindi il colpo Va a cazzo di cane Quindi capita Capita un sacco Intanto Woodpecker Col Bison E le Dualis Che ha deciso Che il Bison E le Dualis È Is the new meta New meta Bison e Dualis Signori Incredibile Ma vero Intanto Woodpecker Si sta portando Verso B Non proprio In maniera silenziosa Aspettato Da un'occhiata Alle varie cose Cerca di Controllare Credo che Aveva sentito Probabilmente Cosa fai Perché stai facendo Il figo Zio Non è che hai fatto Chissà che cosa Il tuo compagno Era Short Ha sentito Palesemente Il tizio Che Faceva il casino Del mondo In In apps E tu semplicemente Sei andato su E l'hai aspettato Per uccidore Da una delle posizioni Più comode Per farlo Attenzione La nade In connector Da Short Short intanto Non riesce a prendere Player connector Perché è andato Giù malamente E il sospettato Decide di andare Per CT Proprio Senza neanche Fare Eh però Eh però Il posizionamento Era anche giusto Ok Il mio problema È che L'ha tenuto L'ha traccato male Attraverso il muro Lì Ho paura Ho paura Che il sospettato Si stia lasciando andare Magari prima Lo stesse Nascondendo bene Eccolo L'ha visto Short Ok Ha visto anche Quello In van L'ho visto io Con la coda Dell'occhio Ok Allora Dubito Dell'ame assistance Ci vedete Che non sparava Molto bene Non ho Altra external E griefing No Non credo Ci sia neanche Il vision Perché era Tutto abbastanza Spiegabile Quindi Per me È innocente Non fortissimo Stavo giocando Contro gente Molto più scarsa Di lui Ed è quello Che succede a CS Quando giochi Contro gente Molto più scarsa Di te Sembri un dio Ok In realtà Se guardi bene I movimenti E quant'altro Scusate Non ho tipo Un miliardo Di peni di Pogno Perché Pogno Sta facendo la muta E ce li ho tutti Sul mio povero Sul mio povero Parasputi Quei idee Ho appena Soffiato sul microfono Lo so Voi non vi preoccupate Comunque Quando giochi Contro gente CS Non è uno di quei giochi Ma quando giochi Contro gente Molto più scarsa Di te O Anche solo Leggermente Più scarsa Di te Sembri quasi Un dio Ok È uno di quei giochi Dove è facile Sembrare Forte 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 Quasi imbattibile Ok La realtà dei fatti È semplicemente Che se Gli avversari Giocassero in un'altra maniera Non saresti così forte E questo è quello che Secondo me è successo Sospettato L'hanno reportato Perché stavano perdendo Palesemente Tanto E ci sarà qualcuno Che ha rosicato Ha detto Ah This guy is cheating They're all cheating Cheating bastards Etc Etc Why am I losing my rank You're losing rank Because You suck Quindi Mi nomi come sempre Qui to know it Fatevi sapere cosa ne pensate Ciao a tutti We wanna wait We wanna wait Gioco ai videogames Da quando avevo Due anni Adesso sono il re del let's play We wanna wait 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 We wanna wait